In amore vince chi fugge e chi è restio a legarsi? Questo video per rispondere a Bonny che mi segue su YouTube. Ma dunque, in amore vince chi seduce, diciamo così. Poi, chi è restio a legarsi e chi tende a fuggire, diciamo che dimostra perlomeno di non essere bisognoso. E questo è un vantaggio nella seduzione e nell'innamoramento. Perché un maschio, ad esempio, viene più facilmente considerato un maschio alfa, un maschio che ti insegue sempre, che vuole legarsi a tutti i costi, non viene reputato dalla sfera emotiva e istintiva come dominante. Però può piacere molto la parte logico-razionale. Quindi, perché la parte logico-razionale di una donna, ad esempio, in questo caso, desidera una stabilità, una tranquillità. Ma lo stesso vale un po' per l'uomo. Cioè, avere una donna disponibile alla parte logica piace, perché la parte logica vuole navigare sempre in un mare calmo. Invece, avere una restia che non vuole legarsi dà più un effetto emotivo. Quindi, poi ci sono anche persone che si agganciano su chi gli fa pressing, su chi gli sta colfiato sul collo, su chi dà possesso, in eccesso rispetto a quanto vogliono. Quindi la regola generale è che se uno vuole 10, non dobbiamo dargli 10, o dobbiamo dargli 9, o dobbiamo dargli 11, per dire. Però, certo è che, diciamo, una persona che istintivamente, perché i narcisisti seducono? Perché i narcisisti non è fotte niente degli altri. E allora, essendo centrati su se stessi, attirano perché le altre persone gli fa vivere una distonia, comunque. E quindi il narcisista, ad esempio, è un seduttore naturale. Però l'ideale non è agire in questo modo, ma è saper gestire, perché non funziona con tutti. Diciamo che è da una buona percentuale, ma se vogliamo ottimizzare il tutto, noi dobbiamo calibrarci sulle esigenze delle persone con le quali interagiamo. Per cui ci può essere una persona, ad esempio, che è riduce da una serie di ammorti aumentati, in cui è stata ribaltata come un calzino, e io, se voglio entrare, devo dare affidabilità, stabilità, presenza. Se con una persona del genere fugo e mi dimostro l'arrestio, e questo è già saturo da quel punto di vista lì, mi manda a stendere immediatamente. Quindi la vera abilità del seduttore non è quella di agire in un modo generico, ma quella di calibrarsi sull'esigenza della persona che interessa. Questa è la vera abilità. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao!